Un volume e una mostra per ricordare storici marchi nati in Piemonte, da Cinzano a Venchiunica, da Peppino a Martiniarossi, nelle immagini creative di grandi scuole pubblicitarie come quella di Armando Testa. Il progetto L'Agro Alimentare in Piemonte, brand che hanno fatto la storia, è stato realizzato dal Consiglio regionale con la Camera di Commercio di Torino e l'Ansa. La mostra, inaugurata a Palazzo Lascaris, prosegue fino al 26 giugno presso l'Aterio di Palazzo Affari, sede della Camera di Commercio di Torino. Come nasce Matosto e perché? Noi abbiamo scoperto di avere nei nostri archivi, 16 km di archivi, una ricchezza inestimabile, la storia dell'impresa del territorio attraverso i propri marchi e quindi abbiamo deciso di valorizzare in questo archivio digitale dei marchi di impresa dal 1926, da quando è stato obbligatorio depositarli presso le Camere di Commercio ad oggi. Oggi facciamo vedere la parte agroalimentare di questi marchi. Sono marchi anche molto divertenti, simpatici, che appunto raccontano la storia dell'evoluzione del nostro territorio e anche quella del costume.